BIPER BANCA Auguro a tutti un buon ascolto. Una settimana fa, sabato 9 novembre, sono ricorsi 30 anni da quella che viene convenzionalmente definita caduta del muro di Berlino, anche se si tratta di una dicitura forse un po' inappropriata perché il muro di Berlino non è caduto per un problema di statica ma è stato abbattuto da persone che hanno cercato una via per la libertà. In occasione di questa circostanza, a livello mediatico generale ma anche nella nostra città, ci sono stati numerosi momenti di riflessione che hanno richiamato la storia dell'89 ma soprattutto la storia che veniva prima. La storia di un lungo dopoguerra contraddistinto dal bipolarismo USA-URS e da quella che abbiamo sempre chiamato guerra fredda. E credo l'abbiate notato anche voi, in molti passaggi, anche diciamo insospettabili, è affiorata una sorta di nostalgia per il tempo della guerra fredda. Certo non per la DDR, non per i VOPOS, non per la costruzione del muro, ma per un mondo che obiettivamente si presentava ai tempi del bipolarismo come molto chiaro, molto nitido, molto geometrico. Mentre il mondo nel quale viviamo per definizione è contraddistinto invece da caos, entropia. I trent'anni che ci dividono dalla caduta o meglio abbattimento del muro di Berlino sono trent'anni in cui abbiamo cercato, in maniera a volte anche piuttosto disordinata, di trovare nuovi paradigmi di interpretazione del sistema delle relazioni internazionali. Si è pensato all'unipolarismo americano e poi si è pensato alla possibilità di avere un duopolio cinese-americano. Nella maggior parte dei casi, credo che ne possiamo convenire, molti di noi alzano le braccia e si arrendono di fronte a un mondo grande e terribile che pare refrattario a qualsiasi possibilità di interpretazione. Sicuramente è vero che l'alba del ventunesimo secolo è stata costra distinta dalla diversificazione del sistema delle relazioni internazionali, da una serie di variabili, basta pensare a quella del terrorismo fondamentalista, che non erano all'orizzonte precedentemente nel mondo cartesiano, geometrico, più nitido della guerra fredda. Però il sospetto è che ci sia non solo una situazione oggettivamente più complicata, ma a volte ci sia anche una minore disponibilità da parte degli osservatori, compresi i semplici cittadini come noi, a sacrificarsi per cercare di capire le nuove forme, le nuove geometrie del mondo in cui viviamo. Le motivazioni di questa resa o comunque di questo disimpegno sono tante. Basta pensare che all'epoca della guerra fredda e del bipolarismo USA-URS c'erano motivi di militanza che richiedevano comunque di informarsi sul quadro internazionale e facevano di tutto implicitamente dei piccoli grandi esperti di geopolitica. Forse però c'è anche un altro sentimento, a mio parere anche sottilmente più pericoloso oggi, che affiora. Cioè l'idea che comunque va dal futuro, sia che sia caratterizzato dal dominio cinese-americano, sia che sia caratterizzato dallo strapotere delle grandi potenze demografiche come la Cina e l'India, sia che sia caratterizzato dalla primazia del continente giovane e volitivo, cioè l'Africa, non riguarderà l'Europa. E questo è un sentimento molto diffuso, soprattutto dopo che il progetto di integrazione europea e di rafforzamento di tutti e di ciascuno tramite l'Unione Europea ha cominciato ad andare in fibrillazione. Ecco, l'appuntamento di oggi vuole essere in qualche modo un contrasto rispetto a questa tendenza al disimpegno, alla disaffezione e in qualche modo alla resa nei confronti della complessità del mondo in cui viviamo. Certo, decifrare il mondo nel quale viviamo richiede molte competenze, competenze di carattere storico per confrontare le forme del dominio globale odierno con quelle che si sono succedute nel corso dei secoli, competenze nell'ambito dell'economia, nell'ambito della cultura, nell'ambito delle nuove tecnologie e soprattutto anche una grande curiosità, quella che fa sì che ci siano alcune persone che vanno in giro per il mondo a parlare con amministratori delegati, a parlare con capi di Stato, a parlare con studenti che protestano per cercare di capire dal campo le tendenze appunto del globo del ventunesimo secolo. Noi oggi presentiamo un libro che è alimentato da queste tre dimensioni, la dimensione della riflessione storica, la competenza sull'attualità e anche questo gusto empirico della testimonianza e dell'andare a vedere come stanno le cose direttamente sul campo. È il libro che ho in mano e che è stato già annunciato prima, si chiama La seconda guerra fredda, lo scontro per il nuovo dominio globale, è stato pubblicato da Mondadori nella collana Strade Blu. Naturalmente questo libro non nasce da solo, nasce da un'intelligenza, da una persona che è appunto depositaria di quelle tre cose che ho detto prima, senso storico, attenzione all'attualità e gusto della ricerca e del giornalismo sul campo. Ed è per questo che dopo questa introduzione, che spero non vi abbia tediato, chiamo qui sul nostro palco Federico Rampini. Buonasera. Grazie e buonasera. Io sono qui ad annunciarvi la fine di un'epoca. Il mondo, come credevamo di averlo capito negli ultimi trent'anni, si sta chiudendo sotto i nostri occhi. Quel periodo se ne apre uno nuovo, profondamente diverso. Il paragone che uso è quello con la guerra fredda, ma poi vi spiegherò quanto sarà diversa dalla prima guerra fredda. Ma voglio cominciare anch'io con qualche anniversario. 15 anni fa uscivano qui in Italia due libri di Federico Rampini, che qualcuno di voi ha letto, Il secolo cinese e l'impero di Cindia, che io scrissi mentre vivevo a Pechino. Li cito, non per essere autoreferenziale, e spero di non peccare di immodestia, però da quegli anni spesso io ho incontrato in giro per il mondo delle persone, dei lettori, che mi hanno detto di aver scoperto la Cina anche grazie a me, a quei libri. Qualcuno che usava i miei libri come guide turistiche per andare a capire meglio il paese che visitava. Qualche giovane che è andato a studiare in Cina dopo aver letto i miei libri. E perfino qualche imprenditore italiano che mi ha detto di averli usati come strumento per decifrare una realtà che attirava o come mercato o come luogo di produzione. Ricordo questo perché vi devo dire, per quanto io vada fiero dei libri che ho scritto, quei libri sono superati. La Cina di oggi non è più neanche quella che vi raccontavo, nonostante fossero libri, di un giornalista affascinato dallo spettacolo della modernizzazione, perché quando io arrivai in Cina nel 2004 già il motore dello sviluppo andava a pieno regime, la Cina stava facendo un balzo in avanti nella modernizzazione che era formidabile, era un evento inaudito nella storia umana per le dimensioni, oltre che per la velocità. Però quella Cina che vi ho raccontato, oggi ve la devo aggiornare, perché è completamente diversa. Io in Cina in realtà non ho mai smesso di tornarci, da dieci anni abito di nuovo negli Stati Uniti, ero partito dall'America, ero partito dalla California vent'anni fa, poi ci sono stati cinque anni in Cina, da dieci anni sono a New York, non ho mai smesso di frequentarla per tante ragioni, riunioni professionali, per esempio come giornalista accreditato alla Casa Bianca ho seguito diversi presidenti nei loro viaggi ufficiali, Obama, Trump, familiari, mia moglie ed io abbiamo tre figli adottivi cinesi, è una storia molto complicata, comunque le riunioni familiari almeno una volta l'anno sono obbligatorie, e poi perché non si può capire il mondo se non si rimane in contatto con una realtà così importante. Quest'anno il mio ritorno in Cina è stato un ritorno molto speciale, perché era il mio decimo anniversario dal trasloco, l'ennesimo trasloco, Pechino-New York, e quindi sapete, quando avvengono questi anniversari uno diventa anche ipersensibile a tutti i dettagli, no? Quindi sono ritornato quest'estate in Cina per un soggiorno in cui ero particolarmente attento. La prima novità è positiva. A Pechino il cielo è azzurro. Cioè la lotta contro l'inquinamento, la lotta al cambiamento climatico, la stanno prendendo sul serio. Con delle operazioni così drastiche come forse solo un regime autoritario riesce a farlo, hanno espulso, hanno chiuso tutte le fabbriche a Pechino. Sostanzialmente non c'è più una sola ciminiera, le hanno espulse a centinaia di chilometri di distanza. Forse l'inquinamento si è solo spostato altrove, in parte però è anche stato ridotto perché investono come nessun'altra nazione al mondo in energie rinnovabili. Pensate che il parco delle rinnovabili cinesi, solare più eolico, ormai vale come tutta la capacità di generazione di energia elettrica della Germania. Tutta. Compreso carbone, centrali tradizionali, eccetera. Quindi il primo cambiamento è positivo. E per le strade di Pechino non avevo mai visto così tante Tesla. La Tesla è quella marca, è la Rolls Royce delle auto elettriche, quella che fanno in California. È una macchina, il modello della Tesla standard può costare anche 100.000 dollari con i dazi cinesi sulle auto americane. Ma oltre alle Tesla elettriche, ci sono 20 marche di auto elettriche cinesi. Ci sono, secondo me, più Tesla in giro per le strade di Pechino che in un'intera nazione europea. In Italia ne vedo pochissime. Questo vi dice il balzo in avanti, nuovo. E poi, ormai io quando arrivo dall'America alla Cina, so che sto viaggiando verso il futuro. Un tempo noi europei andavamo in America per vedere come sarebbe stato il nostro futuro. Adesso l'America non è più il futuro. Io arrivo a Pechino, entro in un negozio, cerco di pagare un acquisto con la mia carta di credito Visa e mi guardano come un poveraccio, un troglodita. Tutti usano solo lo smartphone, pagamenti digitali. Vedete, hanno riunito in una sola app del loro smartphone tutte le funzioni che noi abbiamo disseminate su Whatsapp, la messaggeria, Facebook, Instagram per scambiarci le foto, Airbnb per affittare una camera, Uber per chiamare un taxi, Amazon per comprare online, tutto in una sola che è Weixin, WeChat detto in inglese. La semplificazione estrema. Oggi ci sono più utenti internet in Cina che in Europa e Stati Uniti messi insieme. sono molto più avanti di noi, in quasi tutti i campi. La mia Visa, quindi, mi fa sentire un troglodita. Quando uso la parola Visa, però sapete, in inglese ha un altro senso, non è solo il nome di una carta di credito, vuol dire visto, visto d'ingresso. E qui cominciamo a toccare i tasti dolenti, perché io, nonostante abbia tanti amici e tre figli in Cina, ogni volta che devo chiedere il visto al Consolato Generale di New York, ho paura, me lo potrebbero negare. Perché ho tanti, tanti colleghi giornalisti americani e soprattutto i più bravi, a cui è stato negato tante volte. Alcuni dei migliori esperti della Cina che hanno lavorato nel giornalismo americano, grandi firme, per i quali ho ammirazione, non riescono più ad andarci in quel paese. Gli negano il visto. E questo è il volto di una Cina. Vedete, oggi noi abbiamo un serio, uno dei problemi che abbiamo con quel paese è che non lo conosciamo abbastanza. Sento, percepisco, una inadeguatezza nelle nostre informazioni sulla Cina, ma in parte perché lo vogliono loro. Negare i visti a tanti giornalisti, grandi media occidentali che hanno degli uffici sempre più esangui in Cina, vuol dire che scarseggiano le informazioni, le informazioni di qualità. in parte è un problema per noi e in parte è un fenomeno creato ad arte dal loro governo. Ma per tornare ai cambiamenti che mi impressionano quando ricordo la Cina in cui ho vissuto io, vedete, io arrivai in Cina in una fase di grande, già allora di grande sviluppo, di cambiamento, tumultuoso, ma era ancora una fase in cui la Cina si sentiva un'allieva dell'America, rincorreva il modello americano. Tutto quello che faceva era il tentativo di avvicinarsi il più possibile al numero uno che era l'America. E questo si traduceva anche in un senso comune, cioè il ceto medio-alto che frequentavo a Pechino, Shanghai, era esterofilo nei suoi comportamenti, tentava di occidentalizzarsi il più possibile. A cominciare dai comportamenti di consumo, la giovane coppia cinese di neolaureati, ceto medio-urbano, appena sposati, dove andavano a comprare i mobili per arredarsi la casa? Da Ikea, per essere il più possibile simili a noi. Dove andavano a fare la spesa alimentare da Carrefour e quando, me lo ricordo ancora, quando aprì a Pechino il primo Apple Store, la sera prima dell'inaugurazione, c'era una fila chilometrica, i cinesi che avevano il potere d'acquisto per potersi comprare un iPhone spasimavano questo status symbol. Assemblato in Cina, peraltro, un iPhone, però concepito, designed in California. Beh, quella scena lì non esiste più. Oggi l'iPhone della Apple è scivolato al quinto posto nella graduatoria delle vendite di smartphone cinesi. Preferiscono le marche cinesi. E non solo perché costano un po' meno, ma perché sono convinti che sono migliori come prestazioni. Carrefour sta fallendo in Cina. Perché ci sono, in una città caotica come Pechino, 22 milioni di abitanti, degli ingorghi stradali a tutte le ore, sono fiorite una serie di aziende digitali che vi portano la spesa a casa con un'efficienza molto superiore al servizio di consegna a domicilio di Carrefour. È una Cina che non si sente più di dover rincorrere nessuno. E in molti campi è diventata lei la prima della classe. Poi naturalmente nell'elenco delle questioni drammatiche inquietanti. Non dimentico certo quello che sta succedendo a Hong Kong. C'è un capitolo del mio libro che lo dedico a Hong Kong perché ne ho seguito tante di rivolte di Hong Kong. Ci sono anche degli elementi ciclici e di continuità che non toglie nulla alla gravità di quello che sta accadendo. Ma guardate, accadono cose più gravi di cui noi non parliamo perché non ne possiamo parlare. Il Tibet. Il Tibet. Sapete quanto è diventato ormai difficile per un giornalista occidentale entrare in Tibet? Il Tibet fa parte della Cina ma se voi avete il visto per stare in Cina questo non vi autorizza ad andare in Tibet ne dovete chiedere un altro di visto per il Tibet. E lo Xinjiang. Lo Xinjiang è una terra meravigliosa che ho raccontato tante volte in altri miei libri perché è il deserto del Tamataclan uno dei più bei deserti del pianeta è una zona che veniva attraversata dalle carovane dei cammelli lungo le vie della seta ai tempi di Marco Polo è una zona popolata da una etnia turcomanna che parla una lingua diversa dal mandarino che ha tratti somatici un po' più simili ai nostri comunque medio orientali niente a che vedere con i cinesi e sono di religione musulmana lo Xinjiang è sigillato l'ultima volta che io riuscì a entrarci c'erano già in atto delle rivolte degli uiguri così si chiama la minoranza islamica e venne fermato dalla polizia interrogato espulso foglio di via per cacciarmi a Pechino ma adesso è diventato ancora più difficile e lo Xinjiang è il laboratorio di uno gigantesco esperimento del grande fratello cinese rispetto ai tempi in cui ci andavo io il salto di qualità tecnologico nelle operazioni di vigilanza e di sicurezza è impressionante tenete conto che è in corso una mappatura biometrica e genetica del DNA della popolazione uigura in modo che siano tutti schedati nelle banche dati dell'intelligenza artificiale cinese e un milione di uiguri sono detenuti in campi di prigionia ma è difficilissimo sapere cosa sta succedendo là dentro il controllo è molto ma molto superiore anche a quello del Tibet ora vedete il ritorno alla mia i miei ricordi del 2009 il 2009 l'anno del mio ritorno dalla Cina agli Stati Uniti in trasloco Pechino New York non voglio tediarvi con le cose personali ma ripenso mi calo in quella che era la situazione di allora forse qualcuno di voi ricorderà che 2009 intanto è l'anno della grande crisi finanziaria è cominciata nel 2008 ma 2009 l'esplosione del dramma di Wall Street con tutte le conseguenze anche nell'economia reale cioè dopo lo schianto della finanza ci fu la recessione una recessione globale non in Cina però la Cina subito mise in opera le leve potenti del capitalismo di Stato investimenti pubblici piani anti-crisi e riuscì fu l'unica grande economia del mondo a evitare quella crisi ma lo ricordo perché comunque nel 2009 se andate a rileggervi le analisi geopolitiche che circolavano tra di noi su testate molto autorevoli l'Economist il Financial Times il New York Times si vagheggiava di un G2 c'era la teoria che ormai il mondo sarebbe stato governato da un direttorio a due tra le due superpotenze America e Cina avrebbero deciso tutto perché c'era l'idea che queste due potenze avevano tra di loro un rapporto di complementarietà quasi una simbiosi quasi gemelle siamesi inseparabili si era creata diciamo soprattutto dal 99 faccio un salto di altri dieci anni indietro il 99 è l'anno in cui viene fondata l'organizzazione del commercio mondiale la conosciamo anche con l'acronimo inglese WTO World Trade Organization è la cabina di regia di quella che abbiamo chiamato la globalizzazione e due anni dopo 99 nel 2001 viene ammessa la Cina e lì si instaura quel rapporto di simbiosi qualcuno coniò anche il termine uno storico inglese Nile Ferguson chimerica mettendo insieme China America chimerica una cosa sola da una parte la fabbrica del pianeta dall'altra il suo più grande mercato di sbocco su cui arrivava il Made in China con dei vantaggi anche per il consumatore americano che spendeva molto meno comprando Made in China le multinazionali americane felici di delocalizzare produzione in Cina andando a sfruttare minor costo della mano d'opera la Cina che accumulava già allora certo dei giganteschi avanzi commerciali ma era felice di riciclarli in dollari e comprando titoli del debito pubblico americano tutto questo sembrava in fondo un meccanismo virtuoso perfetto su cui si reggeva l'economia globale e quindi il G2 beh è cambiato tutto non sta più in piedi quel sistema non è vero che era un sistema così virtuoso ha smantellato l'industria manifatturiera non solo qui in Europa ma anche negli Stati Uniti ha decimato la classe operaia americana che si è vendicata tra l'altro e leggendo Donald Trump alla Casa Bianca non è vero tra parentesi voglio è un capitolo del mio libro devo andare un pochino di corsa nel raccontarvelo ma dedico un capitolo a sfatare una tenace leggenda diffusa ad arte io credo dai cinesi quella secondo cui la Cina comunque ha l'ultima parola ha l'arma nucleare per vendicarsi di qualunque sgarbo degli americani e cioè se smette di comprare titoli del tesoro pubblico l'America fallisce questa è veramente pura leggenda bisogna andare a studiarsi i dati la Cina non è il principale finanziatore del tesoro americano è al quarto posto tra gli stranieri c'è prima il Giappone i principali finanziatori sono domestici la Federal Reserve e soprattutto la Social Security che sarebbe l'Inps americana la quota di debito pubblico americano detenuta dai cinesi è solo il 5% è tanto il 5% non è poco ma non è così che si vince una guerra smettendo di comprare e poi la Cina non potrebbe mai permettersi di smettere di riciclare in titoli del tesoro ma chiudo questa parentesi per venire allo scontro attuale altro che G2 siamo in una fase in cui stiamo scivolando verso un clima da seconda guerra fredda è un termine sul quale quando io faccio questo tipo di conferenza in una grande università americana mi fermo guardo il mio pubblico e mi rendo conto che sono tutti nati dopo la caduta del muro di Berlino e quindi devo fare una piccola parentesi per dirgli sapete cos'era la prima guerra fredda? ve la devo raccontare perché siete nati dopo qui forse c'è qualcuno che se la ricorda ma non tutti e poi vedete ci tornerò su questo tema analogie e differenze tra quella guerra fredda è quella cui ci stiamo addentrando però voglio partire da una questione molto molto importante non è colpa di Donald Trump e non e non si esaurisce tutto nella guerra dei dazzi Trump accolto come in altri casi Trump è un rozzo incolto istintivo però come tutte le persone istintive a volte coglie d'intuito ha capito che il rapporto con la Cina non era più sostenibile non si poterà più andare avanti così e guardate il rapporto proprio commerciale tra quanto i cinesi vendono in America e quanto comprano dall'America è 5 a 1 esportano il quintuplo di quello che importano non c'è reciprocità e uno squilibrio simile non può durare Trump lo ha capito li ha colpiti con una serie di dazzi che non erano particolarmente immeritati noi siamo talmente ossessionati da Trump che non ci siamo neanche resi conto quelli che chiamiamo i super dazzi americani sul made in China in realtà erano i dazzi normali che la Cina applicava da sempre sulle importazioni americane la Cina ha sempre fatto protezionismo la guerra commerciale non la comincia Trump l'hanno cominciata i cinesi e la nostra vinta la simmetria il protezionismo culto le discriminazioni sistematiche a favore dei propri produttori nazionali gli aiuti di Stato i sussidi le barriere contro gli stranieri la Cina ha sempre praticato protezionismo più sfacciato oltre alla pirateria la contraffazione i furti di know-how però questa è una storia di cui stiamo vedendo le conseguenze con la guerra dei Dazi e Trump ha sbagliato tante cose non ha capito questo è uno dei suoi limiti anche proprio culturali più gravi non ha mai una visione delle alleanze non ha mai tentato come stava cercando di fare Barack Obama alla fine del suo mandato ha mai tentato di mettere insieme una coalizione di amici partner alleati europei asiatici per fare fronte comune e una pressione più forte sulla Cina perché cambi i suoi comportamenti lui è andato a testa bassa ha colpito alla fine anche con i Dazi gli europei esattamente come stava colpendo i cinesi non distingue tra alleati nemici rivali eccetera quindi errori gravi però guardate già sotto Obama nel secondo mandato di Barack Obama io che lo seguivo in tutti i suoi viaggi all'estero avvertivo un cambiamento di clima sulla Cina e oggi se voi ascoltate i candidati democratici alla nomination per l'elezione presidenziale dell'anno prossimo sulla Cina sono più duri loro di Trump c'è un consenso che si sta formando in America che questa Cina è troppo pericolosa e che va fermata prima che sia troppo tardi e qualcosa di questo sentimento di questa inquietudine allarme certamente ricorda un evento che fu agli albori della prima guerra fredda Sputnik lo shock di Sputnik nel 1957 l'Unione Sovietica batte gli Stati Uniti nella corsa dello spazio nel primo la prima puntata della corsa allo spazio riuscendo a mettere in orbita un satellite che si chiama Sputnik Sputnik ed è uno shock enorme per gli Stati Uniti è un trauma si scoprono sorpassati in una gara tecnologica dalle ricadute strategico militari evidenti perché la tecnologia che consentiva di mettere in orbita il satellite era la stessa che avrebbe consentito di lanciare dei missili balistici intercontinentali con delle testate nucleari da un continente all'altro era chiaro che cosa significava quella sconfitta ecco oggi si sta producendo qualcosa di simile in America allo shock di Sputnik e l'epicentro del trauma si chiama Silicon Valley che è un altro mondo che conosco piuttosto bene visto che vent'anni fa vivevo in California per raccontarvi la prima rivoluzione di internet nel luogo nella culla di tutte le innovazioni tecnologiche vedete è successa una cosa sconcertante negli ultimi anni è come se la Silicon Valley si fosse addormentata sugli allori essendo la sede di Google Apple Facebook Twitter e tanti tanti altri nomi delle tecnologie digitali si è convinta di avere una superiorità eterna si è addormentata al volante e non ha visto nello specchietto retrovisore una Ferrari con targa cinese sulla corsia di sorpasso perché la Cina li sta superando in molti settori della ricerca della tecnologia dell'intelligenza artificiale gli americani stanno cominciando a convincersi che sull'intelligenza artificiale sono più avanti i cinesi anche perché qui tra l'altro c'è una cosa che un po' mostruosa che collega la capacità di progresso tecnologico al regime autoritario sapete si suol dire tra gli esperti addetti ai lavori si suol dire che è l'intelligenza artificiale che è l'intelligenza delle macchine dei super computer delle macchine che ormai imparano da sole deep learning l'apprendimento profondo dei computer che ormai si auto educano o educano altri computer è un mondo che può essere inquietante ma che ha anche delle potenzialità straordinarie la medicina la lotta al cambiamento climatico ci sono anche tanti aspetti positivi ma vedete si suol dire tra addetti ai lavori che nell'era dell'intelligenza artificiale il nuovo petrolio sono i dati i dati big data nel senso che le macchine per imparare da sole devono macinare e digerire miliardi di miliardi di miliardi di dati la gara che costruisce il super computer che usando la matematica quantica elabora più dati degli altri più velocemente il paradosso è che ovviamente questo è più facile se hai un miliardo 300 milioni di abitanti i dati a disposizione sono più numerosi e a maggior ragione se questo miliardo e 300 milioni di abitanti sono abituati dai tempi di Mao Zedong che il governo il loro governo deve sapere tutto di loro e tutti i nostri problemi con la privacy quelle per carità anche noi ci siamo lasciati derubare dei nostri dati a fini privati commerciali eccetera però ogni tanto ci allarmiamo la commissione europea vara delle nuove normative tutela della privacy questi problemi in Cina non esistono il che paradossalmente gli dà un vantaggio competitivo nell'era dell'intelligenza artificiale ma vedete Silicon Valley che cosa vuol dire anche aver dovuto rinunciare ad alcune delle certezze che noi avevamo e io mi ricordo ancora torno a un altro degli anniversari torno al 99 il 1999 è anche l'anno di due profezie celebri dei due Bill americani Bill Gates fondatore di Microsoft disse nel 99 potete controllare la citazione internet porterà la democrazia in Cina è inevitabile internet è un moltiplicatore universale dell'accesso alle conoscenze e all'informazione farà circolare le nostre idee i nostri valori di libertà prima o poi la Cina diventerà come noi era una certezza condivisa questa e lo diceva una persona che è piuttosto intelligente nello stesso periodo un altro Bill che era il presidente degli Stati Uniti Bill Clinton anche lui persona piuttosto intelligente e anche spiritoso con un suo senso dell'umorismo usò per dire sostanzialmente la stessa cosa di Bill Gates usò un'immagine colorita disse se un regime autoritario si illude di poter controllare internet è come se pensasse di prendere della marmellata un martello e un chiodo e di incollare la marmellata al muro vent'anni dopo i cinesi hanno inchiodato la marmellata al muro ma guardate che bisogna frequentare la Cina e i cinesi per capire questo paradosso che ci sfugge ci supera supera la nostra comprensione intanto hanno generato una nuova deriva dei continenti non è vero che internet è universale l'espressione che dà gli indirizzi con la tripla W1 www World Wide Web cioè rete globale non esiste non c'è una rete globale ci sono delle reti hanno creato la nuova deriva dei continenti hanno generato un universo di internet in Cina che funziona benissimo che tutti usano meglio di noi non è la Corea del Nord la Cina sono tutti attaccati ai loro computer ai loro smartphone ai loro tablet e dialogano anche con il resto del mondo perché a fini di business l'economia cinese ha bisogno di essere continuamente a contatto con le economie di tutto il resto del mondo quindi non è un internet chiuso è un internet controllato governato dove le informazioni che in questo momento un cinese di Pechino e di Shanghai ha sulle rivolte di Hong Kong sono esattamente le informazioni che gli vuole dare il governo cinese e non una di più è un internet molto efficiente ma diverso dal nostro e fanno la spesa online più di noi ma non comprano da Amazon comprano da Alibaba creato da Jack Ma l'equivalente di Jeff Bezos negli Stati Uniti e qui vedete è una storia complessa perché senza dubbio la Cina ha praticato pirateria ha copiato tante invenzioni della Silicon Valley ha discriminato contro la concorrenza straniera ma al tempo stesso ha generato dei veri talenti imprenditoriali per esempio il caso di Amazon è emblematico Amazon ha dovuto chiudere la filiale cinese praticamente non faceva soldi in Cina ma non perché il governo cinese glielo impediva perché i concorrenti locali erano più bravi hanno saputo adattarsi meglio alle richieste dei consumatori locali e allora vedete anche questo sconvolge altre delle nostre certezze su cui ci siamo cullati a lungo uno credevamo che libertà e innovazione fossero strettamente collegati quante volte ci siamo detti un genio come Steve Jobs il fondatore di Apple poteva nascere solo in California perché quel tipo di genio è un anarchico è un trasgressivo è uno che pensa fuori dagli schemi per inventare le cose continuamente nuove deve essere un ribelle e quindi un regime autoritario non sarà mai capace di generare tanta innovazione e invece non sta andando così c'è tanta innovazione sul terreno tecnologico economico in Cina nonostante che le informazioni politiche e la libertà politica gli sia negata e poi avevamo anche questa convinzione insomma che fossero dei pirati sostanzialmente bravi bravissimi a copiarci e poco più vedete il fatto è che i cinesi imprenditori cinesi non sono solo dei pirati contro di noi sono dei pirati tra di loro si scanano tra di loro si copiano anche tra di loro il furto di brevetti avviene anche all'interno della Cina tra imprese cinesi e allora è successa una cosa che non avevamo capito non avevamo previsto in quella giungla è cominciata una selezione del più forte come in tutte le giungle belve feroci ma quello che alla fine sopravvive alla competizione è molto in gamba perché se l'è dovuta vedere con dei pirati o dei piragna che gli addentavano pezzi di carne viva e tutto questo è la nuova Cina e lo shock di Sputnik che l'America sta vivendo vedete porta a degli scenari mondiali che possono essere angoscianti c'è un'immagine una metafora che viene usata abbastanza spesso dagli studiosi di scienze politiche di storia di geopolitica la trappola di Tucidide questo l'ha rilanciata questa teoria ha uno studioso americano importante Graham Ellison che ha anche messo al lavoro dell'equip di ricercatori per macinare tante tante una casistica di episodi della storia la trappola di Tucidide si riferisce allo storico greco Tucidide che ci raccontò la guerra del Peloponneso prevalentemente tra Atene e Sparta e viene usata la metafora per raffigurare ogni situazione in cui una potenza in declino è affiancata da una potenza in ascesa e la rivalità tra le due il timore del sorpasso può condurre alla guerra purtroppo la casistica storica dice che molto spesso le rivalità tra potenze declinanti e potenze ascendenti finiscono in conflitti e tra l'altro una metafora che è stata ripresa esplicitamente da Xi Jinping presidente della Cina come un monitor rivolto a noi io ricordo due incontri uno di Xi Jinping con Barack Obama e uno con Donald Trump in cui Xi a un certo punto citò la trappola di Tucidide perché ovviamente gli uffici studi del governo cinese studiano anche le nostre pubblicazioni dicendo state attenti voi occidentali a non cadere nel riflesso condizionato che siccome noi stiamo tornando ad essere la superpotenza che eravamo stati vi facciamo paura e quindi scivolate verso comportamenti di ostilità che possono condurre alla guerra in questo Xi Jinping ci vuole anche vendere una sua narrazione storica che è quella che i cinesi studiano a scuola la Cina è sempre stata un impero buono non ha mai avuto sete di conquiste coloniali fino al 1600 grosso modo è stata la nazione più ricca del pianeta ma a differenza di noi bianchi non sentiva il bisogno di andare all'estero a conquistare nazioni soggiogarle dominarle sfruttarle come territori coloniali questa è una favola molto rassicurante che ci dice guardate noi cinesi loro usano proprio questi termini noi cinesi non abbiamo il DNA dell'imperialismo state tranquilli non vi spaventate non come tutte le favole troppo bella per essere vera nella storia della Cina intanto proprio nel periodo prima 70 anni prima che Cristoforo Colombo sbarcasse per sbaglio in America nel Nuovo Mondo un ammiraglio cinese aveva condotto una gigantesca flotta dell'impero Ming a esplorare nuove terre Asia Africa qualcuno dice perfino l'America Latina probabilmente no ma comunque non ha fatto conquiste territoriali perché l'impero Ming a un certo punto era minacciato da invasori terrestri e quindi tutta la potenza militare dell'impero celeste dovette essere richiamata a difesa delle frontiere interne perché nella storia della Cina prevalentemente la minaccia di invasori è sempre stata quella dei popoli delle steppe i mongoli e altre orde selvagge che venivano dal nord non dal mare fino al momento in cui arrivavano gli inglesi quindi questo per sfatare la leggenda dell'impero buono ma soprattutto c'è un piccolo particolare che Xi Jinping omette quando ci spiega che loro non hanno il DNA dell'imperialismo la Cina oggi è un impero coloniale possiede il Tibet che non è cinese possiede lo Xinjiang che non è cinese possiede la Mongolia che non è cinese sono territori conquistati dominati popolati da nazioni diverse e che non vengono neanche trattate tanto bene comunque bisogna studiarla questa Cina anche nella nuova autostima che ha sul proprio sistema politico guardate questa è un'altra delle svolte epocali rispetto a dieci anni fa io ricordo bene quando Obama aveva di fronte un altro presidente cinese che tutti avete dimenticato perché era un presidente piuttosto grigio una direzione collegiale senza grande spicco si chiamava Hu Jintao ai tempi di Hu Jintao ancora la Cina aveva un atteggiamento direi cauto neutrale relativista equidistante sul tema dei sistemi politici cioè non accettavano prediche sui diritti umani le respingevano al mittente però dicevano a noi occidentali sostanzialmente ciascuno ha il sistema politico che gli è più adatto a voi va bene la democrazia noi siamo diversi abbiamo duemila anni di storia di confucianesimo altri valori un altro modo di concepire i rapporti tra l'individuo e la comunità la democrazia non è fatta per noi punto basta adesso è cambiato completamente il discorso cinese adesso Xi Jinping ci dice il nostro sistema cinese è migliore del vostro è più efficiente dà risultati ben più benefici per la popolazione delle vostre democrazie caotiche imprevedibili litigiose eternamente fonte di divisioni interne noi cinesi facciamo piani a vent'anni e li realizziamo con cinque anni di anticipo voi siete ogni sei mesi avete un'elezione da qualche parte che vi sta paralizzando noi abbiamo una cultura confuciana allora mi soffermo un attimo sui termini perché non bisogna dare per scontato nulla la Cina continua a definirsi comunista è un termine che fa sorridere visto che sappiamo che ci sono fiori di miliardari quest'anno per la prima volta nell'elenco della rivista americana Fortune ci sono più miliardari cinesi che miliardari americani che comunismo è quello ci sono diseguaglianze sociali c'è un'economia di mercato profitto le borse però se loro si definiscono comunisti una ragione ci sarà non bisogna mai prendere alla leggera c'è scritto nella loro costituzione che sono comunisti questo ci ricorda quanto è importante intanto la legittimità dinastica cioè Xi Jinping ci tiene ad essere il continuatore di una storia che comincia con Mao e che è una storia di riscatto nazionale di una Cina che torna ad essere rispettata dopo il secolo delle umiliazioni e poi di comunista c'ha un valore sicuro il partito unico quella è il dogma numero uno e non è poco e guardate tutta la lettura che lui fece perché avete ricordato l'89 la caduta del muro di Berlino ma l'89 non è solo la caduta del muro di Berlino è Piazza Tiananmen il massacro di Piazza Tiananmen dei giovani cinesi che chiedono democrazia a Pechino la Cina dà una lettura totalmente diversa della nostra la Cina osserva Gorbaciov e dice questo è un pazzo un criminale non ha capito niente la Cina fa l'esatto contrario di Gorbaciov mantiene il potere del partito comunista e avvia la transizione al capitalismo benessere ricchezza modernizzazione e controllo politico è la sua lezione dalle storie dell'89 e poi la Cina mescola a questa idea di comunismo la meritocrazia guardate questa è una storia anche questa molto molto antica perché l'avevano capita niente meno che Montesquieu e Voltaire bisogna andare a rileggersi cosa scrivevano Montesquieu e Voltaire nel settecento sull'impero celeste l'ammirazione che avevano per la prima burocrazia moderna che selezionava i propri dirigenti su base di competenza attraverso concorsi pubblici a un'epoca in cui l'ancien regime francese vendeva le cariche pubbliche al migliore offerente la meritocrazia è una tradizione che hanno loro hanno un governo dei competenti loro dicono a noi ma come vi illudete di avere dei governi efficienti se sono basati semplicemente sul principio delle elezioni da noi in Cina mandiamo al governo chi sa governare chi ha fatto le sue prove chi ha delle competenze reali voi non vi fareste operare da un chirurgo che è stato eletto dall'assemblea di condominio volete uno che ha un PhD a Harvard e attenzione questo è un applauso pericolosissimo eh no perché scivoliamo è seducente eh il messaggio il messaggio di Xi Jinping è seducente perché coincide con una fase in cui noi dubitiamo di tutto abbiamo perso qualunque certezza noi in occidente non siamo più sicuri delle qualità della nostra democrazia il suo messaggio è di una solidità aggiungeteci quello che significa il pensiero confuciano non posso dilungarmi ehm sono temi che nel libro trovate spiegati meglio però vedete Confucio che non è il fondatore di una religione diciamo forse di una religione laica andrebbe forse più paragonato al nostro Machiavelli uno scienziato della politica è un fondatore di una dottrina di scienze sociali di idea della società e del governo e del buon governo questo è Confucio e anche quello che dà a certe società asiatiche perché la Cina ma anche il Giappone la Corea il Vietnam sono impregnati di cultura di tradizione confuciana il principio per cui prima dei diritti individuali vengono i doveri verso la comunità questo è un rovesciamento del nostro universo noi siamo nel mondo dei diritti a volte anche troppo loro sono nel mondo dei doveri prima di tutto c'è l'interesse collettivo i tuoi diritti vengono dopo naturalmente tutto questo può dare anche che ha adito una lettura autoritaria paternalistica il modello che i cinesi i dirigenti cinesi hanno studiato di più e più a lungo è Singapore che è la versione di destra del confucianesimo autoritarismo meritocrazia competenza efficienza è una dobbiamo metterci a studiare Confucio anche perché loro studiano i nostri pensatori politici qui c'è una simmetria pericolosa loro sanno di noi molto ma molto più di quello che noi sappiamo di loro il progetto espansionistico cinese lo conosciamo le nuove vie della seta che ripercorrono quelle antiche ma sono molto più diversificate le nuove vie della seta sono grossomodo sei corridoi che dalla Cina attraversano alcuni la Russia l'Asia centrale l'Asia meridionale il sud-est asiatico i mari arrivano nel corno d'Africa arrivano nel Golfo Persico arrivano nei Balcani arrivano a Genova a Trieste alcune di queste vie della seta sono già nei fatti costruite cantieri che da anni stanno costruendo autostrade ferrovie ad alta velocità porti aeroporti centrali elettriche linee a fibre ottiche stanno i tentacoli della piovra cinese si stanno allargando e naturalmente loro anche questo ce lo presentano come il contrario dell'imperialismo Xi Jinping usa quel termine che avrete sentito l'ha usato quando è venuto il 23 marzo è venuto a Roma a far firmare al Conte Conte 1 il primo governo Conte il memorandum di accordo con cui l'Italia è entrata ufficialmente a far parte del progetto Belt and Road è il nome ufficiale delle nuove vie della seta cintura e strada e anche in quell'occasione Xi Jinping usò questa immagine è un progetto win-win vinci tu e vinco io è un gioco a somma positiva le infrastrutture non servono solo a noi cinesi per rendere ancora più facile l'esportazione di prodotti cinesi verso il resto del mondo servono anche a voi le autostrade vanno nei due sensi non è esattamente così nel senso che lungo le vie della seta stanno transitando tante cose danni ambientali perché le grandi opere fatte dai cinesi vengono fatte molto in fretta ma senza studi di impatto ambientale abusi contro i diritti dei lavoratori perché nei cantieri cinesi non ci sono i sindacati qualche volta addirittura un modello di censura chiave in mano perché insieme con le grandi opere infrastrutturali la Cina propone per esempio ad alcuni dittatori africani le loro tecnologie di censura di internet e trovano un mercato molto fertile c'è anche una cosa un pochino più sottile che è un'esportazione del debito pubblico cinese i cinesi stanno esportando insieme con le infrastrutture con la loro formidabile capacità di costruzione anche sovraccapacità produttiva perché loro in casa propria ne hanno costruite perfino troppe di infrastrutture hanno un'industria del cemento delle grandi opere che ha bisogno di lavorare e la mandano all'estero ma non regalano le grandi opere le autostrade i porti gli aeroporti non sono dei doni sono prestiti se il paese ricevente non restituisce non rimborsa al prestito la Cina pignora come tutti i creditori e sta già accadendo è accaduto con un porto nello Sri Lanka ci sono alcuni paesi di Pakistan alcuni paesi africani che sono a rischio di insolvenza e la Cina dice beh mi dispiace se non pagate le rate del mutuo divento proprietaria io ma tuttavia bisogna stare attenti a non cadere nelle semplificazioni eccessive perché il rischio della guerra fredda poi è sempre quello anche di essere prigionieri di forme di propaganda questo progetto parte già in corso di realizzazione nuove vie della seta Belt and Road vale secondo stime indipendenti fatte dalla banca mondiale mille miliardi di dollari nell'arco di un decennio questo è il moderno piano Marshall se siamo onesti dobbiamo paragonarlo a quello che fu il piano Marshall quando l'America nel dopoguerra alla fine della seconda guerra mondiale attraverso il piano Marshall finanziò generosamente e con molta lungimiranza la ricostruzione dell'Europa distrutta ivi compresa la ricostruzione del suo nemico la Germania fu un momento in cui l'America aveva la visione aveva il futuro la capacità di progettare il futuro e di realizzare i suoi progetti adesso invece abbiamo un'America isolazionista che si ripiega su se stessa e questo dobbiamo anche ricordare quante volte gliel'abbiamo detto di tornarsene a casa loro quando io ero ragazzo iscritto al partito comunista italiano scendevamo in piazza dicevamo Yankee go home americani andatevene ci stanno esaudendo se ne vanno è un momento di ritirata dell'impero e non prendiamocela con il solito Donald Trump che ha ritirato le truppe dalla Siria settentrionale abbandonando i kurdi la sua principale rivale a sinistra oserei dire all'estrema a sinistra Elizabeth Warren con lei che in questo momento è in testa ai sondaggi tra i candidati democratici dice la stessa cosa se andavate a leggere il sito di Elizabeth Warren sei mesi fa diceva via tutti i soldati americani dalla Siria basta con le uniformi americane in giro per il mondo quello è un imperio in ritirata e qui abbiamo dall'altra parte un piano Marshall che offre a tanti paesi che ne hanno bisogno infrastrutture essenziali un capitolo del mio libro è dedicato interamente ai cinesi in Africa perché questo è un tema abbastanza scabroso nel senso che in Italia credete di sapere già tutto sui cinesi in Africa sono i nuovi padroni dell'Africa la stanno colonizzando la stanno saccheggiando rapina di risorse naturali inquinamento abusi contro i diritti umani sapete già tutto della storia è un po' più complicata e bisogna andare a guardarla in loco ho passato molto tempo quest'anno in giro per l'Etiopia a vedere cosa stanno facendo i cinesi lì e vedete quando osservate una bambina etiope di dieci anni che passa le sue giornate ore e ore delle sue giornate a camminare su strade sterrate per trasportare sulla testa una tanica d'acqua andare dalla sorgente al villaggio e poi finalmente vedete una ditta cinese che asfalta le strade e costruisce gli acquedotti e quei cinesi non li considerate degli sporchi colonialisti quei cinesi stanno facendo quello che avremmo dovuto fare noi lo stanno facendo stanno costruendo autostrade necessarie porti aeroporti acquedotti fognature anche qualche ospedale naturalmente ci sono gli abusi le tensione e certo che non lo fanno perché sono generosi non lo fanno per beneficenza è chiaro cosa vogliono dall'Africa le sue risorse naturali però qualcosa in cambio glielo stanno dando attenzione con gli stereotipi con le formulette con cui crediamo di aver già liquidato il fenomeno dei cinesi in Africa attenzione perché noi ci stiamo ritirando avevano proposto agli italiani di costruire la nuova ferrovia che deve collegare Addis Abeba al mare gli italiani non se la sono sentiti ci sono i cinesi che la stanno costruendo andava costruita e loro lo fanno e noi siamo bloccati dal fatto la paura tutto ciò che ha a che vedere con la cooperazione allo sviluppo vuol dire tangenti forse corruzione forse meglio stare alla larga quello che facciamo alla fine è solo umanitario io ho il massimo rispetto per l'umanitario io l'Etiopia l'ho girata grazie ad una ONG umanitaria americana ma diretta da un italiano ho visto le cose meravigliose che fanno meravigliose cliniche per donne per bambini scuole in villaggi sperduti fanno delle cose eccezionali ma sono una goccia nell'oceano i cinesi no i cinesi sono una macchina da guerra che sta facendo cose monumentali e guardate c'è un altro tema molto meno noto fin qui ho parlato delle grandi opere dei cinesi in Africa le strade i porti gli acquedotti le ferrovie e questo prevalentemente è un'operazione che ha una regia nel governo di Pechino quasi sempre sono grandi aziende di stato che lo fanno ma c'è un altro fenomeno dei cinesi in Africa che è completamente diverso sono gli imprenditori cani sciolti che partono alla conquista dell'Africa ciascuno per conto suo non c'è una regia del governo dietro questi sono gli equivalenti degli imprenditori americani che andavano alla scoperta del far west sono degli avventurieri sono mossi non certo da generosità umanitaria da sete di profitto nient'altro costruiscono delle fabbriche anche perché magari è un modo per aggirare i dazzi di Trump e sì perché se tu una fabbrica di tessile abbigliamento dalla Cina la sposti in Etiopia le tue produzioni etiopi non sono colpite da dazzi quindi è anche un modo di fare le delocalizzazioni in senso inverso ora vedete anche qui è ovvio che i cinesi questi cinesi sono un milione di imprenditori cinesi in giro per l'Africa a costruire fabbriche questo è un fenomeno disordinato selvaggio non sono simpatici sono dei razzisti trattano male i loro dipendenti sono brutti sporchi e cattivi però stiamo bene attenti perché a casa loro con quei metodi in trent'anni quarant'anni al massimo hanno sollevato dalla miseria settecentocinquanta milioni di cinesi il miracolo cinese non ha precedenti nella storia umana e non è che sia stata una cosa simpatica vedete Mao Tse Tung che era un vero comunista lui diceva della rivoluzione comunista la rivoluzione non è una festa di gala ed è chiaro che cosa alludesse beh ma neanche il capitalismo è una festa di gala è brutto sporco e cattivo però se loro riescono a trasportare il loro modello in Africa e creano centinaia di milioni di posti di lavoro sicuramente ci sarà sfruttamento abusi inquinamento però l'Africa svolta come ha svoltato la Cina se non fosse successo il capitalismo brutto sporco e cattivo in Cina a quest'ora fossimo rimasti al tenore di vita che c'era ai tempi di Mao il nostro problema numero uno oggi nel 2019 non sarebbe il cambiamento climatico sarebbe l'emergenza Cina intesa come orde di centinaia di milioni di disperati e di affamati che emigrano nel resto del mondo dalla Cina quel problema non c'è allora stiamo attenti prima di liquidare la sinizzazione dell'Africa è una forma di colonizzazione però il verdetto finale lo vedremo tra 10-30 anni concludo su questo tema che se stiamo scivolando verso una nuova guerra fredda bisognerà decidere da che parte stare la logica della guerra fredda è una logica bipolare ed è una logica in cui è molto difficile stare in mezzo e dire io non mi schiero è un problema per tutti il clima è questo guardate gli americani ci stanno dicendo per esempio non comprate la tecnologia cinese del 5G la quinta generazione di telecomunicazioni quella che consentirà a internet di fare un salto di velocità al centuplo che è una cosa che quando uno la legge nelle analisi degli specialisti dice ma cosa me ne faccio di un internet cento volte più veloce io personalmente niente però guardate che quello che stanno già sperimentando nel modello delle smart cities cinesi è in un solo paese fuori dalla Cina quel minuscolo laboratorio tecnologico che si chiama Israele sono ad esempio più ancora dell'auto senza guidatore il camion senza guidatore che diventa sempre più simile a un treno cioè colonne colonne di tir completamente automatizzati guidati dall'intelligenza artificiale lungo delle autostrade elettriche dove i motori elettrici traggono l'energia da sensori sotto l'asfalto nell'asfalto con una fluidificazione del traffico e naturalmente un livello di emissioni carboniche pari a zero cioè le applicazioni dell'intelligenza artificiale con l'internet super super veloce del 5G significa la capacità delle macchine di dialogare tra di loro e di dare dei risultati che oggi a stento cominciamo ad immaginare bene tutto questo oggi vede la tecnologia cinese davanti gli americani sul 5G sono in ritardo ci sono due società europee che potrebbero fornirlo sono la nokia e la ericsson ma costa molto molto più caro della tecnologia cinese ci stiamo cascando quasi tutti la germania ha già detto che comprerà cinese l'inghilterra probabilmente pure gli americani dicono sappiate che vi mettete lo spionaggio cinese in casa una volta che i vostri paesi sono pieni di torri ripetitori del 5G cinesi è la cina che decide quello che saprà di voi questo tipo di logica infernale da guerra fredda la vedremo sempre più spesso e entrerà sempre di più nelle nostre vite quotidiane guardate io per ragioni storiche familiari frequento abbastanza la città di Genova al porto di Genova non hanno mai visto così spesso l'ambasciatore americano l'ambasciatore americano a Roma è continuamente lì per vigilare il prossimo passo dell'avanzata cinese in una delle nostre infrastrutture nevralgiche il tema si pone a tutti dicevo proprio tutti in una guerra fredda in una logica bipolare anche la Russia deve decidere la Russia sta scivolando nell'orbita cinese con un'inversione dei rapporti di forze rispetto ai tempi del comunismo quello vero perché allora c'era una chiesa dominante e una chiesa scismatica che era quella cinese di Mao adesso Putin è costretto all'abbraccio con il dragone cinese ma è chiaro che è molto più debole lui rimane un genio di politica estera continua ad avere un arsenale nucleare superiore perfino a quello dei cinesi ma i rapporti di forze economiche sono soverarchianti a favore della Cina e noi questo è un interrogativo che vi vi consegno perché il mio libro su questo punto e noi non può darvi delle certezze certamente ci sono delle scelte da fare sul terreno dei valori se crediamo che occidente non è solo un'espressione geografica ma anche un patrimonio di valori e allora dobbiamo capire che quelli di Xi Jinping non sono i nostri poi ci sono anche gli interessi materiali e qui è molto più complicato scegliere molto molto più complicato perché la Cina ci offre un piano Marshall l'America non ci offre più niente questa America di Donald Trump ci tratta addirittura come se fossero dei nemici ma lasciamo stare forse tra un anno o anche prima Donald Trump non sarà più presidente degli Stati Uniti e non illudetevi questo non è un problema legato a quel presidente lì è molto molto più vasta la superficie terrestre che verrà coperta da questa nuova nube che sarà la seconda guerra fredda cui tutto sarà molto più ambiguo che nella prima concludo su quest'immagine vi ricordate quelli di voi che si ricordano come me ma nella prima guerra fredda non solo l'Unione Sovietica era decisamente meno ricca di noi non era non aveva nessun tipo di compenetrazione con le nostre economie era ve li immaginate voi l'Unione Sovietica che si comprava delle aziende grandi aziende occidentali ma la Cina si è comprata la Volvo la Cina è azionista di grandi aziende americane ha comprato il porto di Atene è azionista di uno dei più grandi Terminal Porta Container di Genova la Cina è una potenza capitalistica che ha investito nei nostri paesi come nessuno poteva fare invece dall'est comunista nella prima guerra fredda ai tempi della prima guerra fredda per un cittadino sovietico o polacco ungherese o da Germania Est era complicato riuscire a venire qui da noi avevano dei limiti delle restrizioni per viaggiare all'estero anche per noi non era semplicissimo ma insomma i cinesi ci invadono i turisti cinesi vanno dove gli pare a loro nessuno gli impedisce di andare Venezia Firenze Roma sono Parigi Londra è molto molto diverso non possiamo applicare gli stessi schemi per questo sarà un'epoca come dicono nei proverbi in mandarino i cinesi vivremo tempi interessanti e questo oggettivo in mandarino apre a dei significati molto ma molto più ambigui che in italiano vivremo tempi interessanti grazie 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 Modena